come puoi essere più produttivo per arrivare al traguardo che ti sei prefissato secondo me dovresti cominciare da qui verifica di avere un obiettivo chiaro e quantificato se non hai un obiettivo non puoi essere produttivo se non sai a quale quota devi arrivare non puoi sapere quanto ti manca per raggiungere la quota riconosci che cosa fai elenca sinceramente tutte le azioni della tua giornata sinceramente anche le perdite di tempo anche i giretti senza senso che fai per internet anche il fatto di andare a ripetere delle cose che sai che non servono riconosci che cosa fai elenca sinceramente tutte le azioni assegna un punteggio alle tue azioni in base alla rilevanza tu hai un elenco di cose da fare guarda esattamente come investi le tue 24 ore e assegna un punteggio a queste azioni domandati quanto c'entrano con il tuo obiettivo se vuoi essere produttivo devi fare delle azioni rilevanti tutto questo dipende dal valore che tu assegni alla tua vita alle tue azioni ti consiglio il mio corso 50 valori per vivere meglio vuoi essere davvero felice ti servono dei valori solidi devi agire in nome di valori solidi la soluzione definitiva per stress indecisione noia paura di non farcela e quel vuoto interiore che ti rovina sono dei valori solidi se vuoi essere produttivo devi conoscere precisamente il tuo valore crea un piano per coordinare le tue azioni utili all'obiettivo tu hai valore tu esprimi valore ti serve un piano proprio perché c'è confusione attorno a te il piano deve essere scritto in modo che tu possa coordinare le tue azioni utili all'obiettivo smetti di fare ogni altra azione che non porta al tuo obiettivo hai un elenco scritto di quello che fai ti rendi conto di quando sei dispersivo capisci che quelle azioni non servono e così elimina le smetti di fare ogni altra azione che non porta all'obiettivo grazie a tutti grazie a tutti